12 aprile 1945 muore a warm springs franklin delano roosevelt 32esimo presidente degli stati uniti d'america l'unico a servire per più di due mandati vince le elezioni per ben quattro volte rimanendo in carica dal 1933 fino alla sua morte figura centrale del ventesimo secolo roosevelt è uno dei tre presidenti più popolari d'america larga parte della sua fama è dovuta al vasto e radicale programma di riforme economiche e sociali attuato fra il 1933 e il 1937 conosciuto con il nome di new deal grazie al quale gli stati uniti riescono a superare la grande depressione dei primi anni 30 è lui che dirige con mano ferma il paese nella seconda guerra mondiale e che contribuisce in modo decisivo alla sconfitta delle potenze dell'asse e alla costituzione delle nazioni unite grazie a tutti grazie a tutti